insomma la vendetta di foglia la vendettina di foglia vai raga me la faccio asciutta con foglia sta partita io ero con foglia attaccato io ero con foglia attaccato ok sono arrivato ero attaccato a Mirko da admin è andato giù per fare le luci io gli sono staccato un secondo sono arrivato al corpo visto il pugnale uscire dalla tasca di Raziv ucciderlo col sangue e tutto attorno alla mia faccia prima di far rifendere Raziv una domanda per te se tu dovessi dare da 1 a 10 quanto sei certo di sta call 9 e mezzo io ero con foglia io ho l'alibi si attacca al cazzo allora foglia Raziv io ho visto Ray Ray quindi è Raziv era verde e scuro si io ero con foglia attaccato dove? stavo facendo le foglia io regà mi sa che seguo un esterno foglia e storage io ero attaccato a foglia volevo vedere se le faceva io non so io non ero con te no è impossibile si io ero attaccato a foglia no amore mio io più di questo non so che dirti però è Raziv c'è poco da fare è Raziv poco da fare io non so che dirti ti ripeto io più di questo raga potrebbe essere un altro io sono facendo foglia e effettivamente Raziv era lì con me però poi sono ragà io stavo controllando foglia però sono andate via le luci ma uno allora uno e non l'hai più visto allora uno mi sa che ti stai confondendo perché sei il killer non vedi il suo accesso è lo spento perché no foglia foglia te quando sono spento le luci l'hai continuato a vedere Raziv era attaccato si era lì con me io ero messo lì nelle foglie aspettare che lui se ne andasse per vedere in alta sinistra se la barra non mi fai perdere di vista il mio obiettivo questa volta è perché sei stronzo e non vedi un cazzo o è self report potrebbe pure essere self report vabbè quindi non perdo di vista no io non lo reporto però mi sa che hai visto male è proprio stupido perché foglia sta dando l'alibi a Raziv secondo me non è self secondo me è stupido che non vede un cazzo però potrebbe per me sono foglia Raziv need it ora ora stiamo attenti cosa facciamo chat mh ora che bisogna ammazzare con l'intera camera che arrotti con io siamo qua vediamo un attimo andiamo su andiamo la botola fa cagare sta botola inutile io Fede, Fraston, Nade, Barry no? grazie ci sei Fraston? ci sei voglierei no io ero con Fede in telecam ragazzi si ero in security ah è vero Fede anche la questione è io sono sicuro di Raziv io ero con Fede game cam era come in security no no per prima ma per prima sicuro sicuro eravamo 100% Fraston e voto in admin chi c'era chi era in eye in madbay nade c'è un chio con voi tu sei arrivata alla fine frate cazzo comunque che cazzo no ho semplicemente chiamato perché era passato tanto tempo quindi un'amore 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 un'ascosti corpi scimmia io continuo di rosa non c'era neanche sono stato abbastanza chi era in camera io ero io ero ok poteri confermare di avervi visto adesso ok si ah ma non sappiamo dove sono i corpi chi è morto c'è quanti morti sono stai due non due non due non due all'acchio uno ma che due non scherzi no marx e mirko si marx e mirko vabbè poche info se schifano reddyfoglie io voto raze mi è più da la storia inizierò a preoccuparmi della prossima doppia io sono sicuro di raze quindi continuo attenti a votare berri che mi hanno votato snichi snichi ok grazie ho notato anche quello ok lo sappiamo tutti raga chi sono oh erotter cazzo eravamo in quattro insieme eravamo in quattro tutti insieme ma ragazzi dove eravate in quattro insieme scusatemi ok dov'è il corpo era praticamente tra electricity ma allora che cazzo volete romper i coglioni a me eravamo in quattro con le luci spent romper i coglioni a me io voto io voto red vabbè tu perché sei ceccato di merda non sono un ceccato si perché ero attaccato a foglia ero attaccato a foglia nelle cazzo non mezzone vero ma si ma lo vuoi sapere meglio di me che era accantato accantato ma si voglio saperlo meglio di te perché t'ho visto ma sei ceccato io ti voto ma da fai quello che cazzo aspettate ragazzi ragazzi allora io direi un attimo sto kill perché cioè ok dopo che l'hai visto però ma allora qua eravate in quattro in quattro che siete arrivati a uno a uno dentro elettrisi con le luci spente il corpo era in storage insieme abbiamo fatto il tragett insieme chi eravate chi eravate insieme eravamo in quattro da sinistra eravamo fra son fede barry e voto attaccati sempre non penso allora ragazzi io vi dico di votare resi perché abbiamo l'unica prova che abbiamo io voto resi perché sono sicuro ma perché ragazzi non ne siamo sicuri io ho dubbi su fede che mi è sembrato che stava allora poco fa poco fa sia barry che voto ma hanno votato sneaky e quello già è un sospetto che sneaky te l'ho detto no pure per lì zitto zitto che ti accompagna è un faustronzo frate io sono ah ragazzi dobbiamo provare ragazzi io voto resi ragazzi ragazzi non avrebbe senso ragazzi non avrebbe senso fare una col così al mio suo game ma hai cercato perché la presto uccidere no non sono cercato resi me l'hai sceso davanti vabbè sì e gli altri che votano pure eh vabbè eh dimmi se l'avete votato resi se a me sei non dobbiamo votare io sono sicuro di resi la foglia mi aspettavo io ve lo c'ho sto dubbio su voto perché tu continui a chiamare fai ammazzato è vero che sei resi l'altro sei te foglia no non hai detto fratello perché dava l'alibi a resi quindi lui no io voto non mi ah questo no ragazzi ragazzi ma siete scemi ragazzi eh vabbè ragazzi no ragazzi no ragazzi no ragazzi mi volete mi volete ascoltare senza votare a cazzo di cane allora poco fa voto con la luce spente self report e tutti zitti self report dice che ero io che ero accanto a foglia a buttare la spazzatura che lui la buttava io lo controllavo per capire se la barra aumentasse o no poco fa scusa ma se c'erano le luci spente appunto io ero attaccato a foglia proprio per capire no ma io sono sicuro di aspetta silenzio dopo quando nella cosa di poco fa nel voto di poco fa tutti hanno schippato voto dice sì io voto rei e sneaky sneaky nella confusione barry ha votato pure per me non l'ha mai detto barry voto rei mai quindi secondo me sto voto è barry io me la gioco così fede non trovarla io poco fa ero sempre con fede nelle cazzo di telecamere e ci sono state due uccisioni io non sono stato voto io voto no erano due perché mirko era morto all'inizio e poi sono morte due ragazzi io voto voto io voto voto ragazzi secondo me ragazzi secondo me Reciv è fede secondo me foglia ti dà l'alibi ma ha avuto il tempo di uscire ma che cazzo vuol dire pure tu sì sì secondo me ragazzi posso dire una cosa Nathan ha visto che facevo il voto no io di fede mi fido è voto ma non ci vedo era commento alle camera beh fede era commento alle camera ragazzi un attimo zitti un attimo che state solo facendo così io voto capisci che sono nella situazione in cui io non so se credere a Raziv o a te o a nessuno dei due appunto Raziv l'unica cosa che so è che quando tu dici che l'ha ammazzato era di fianco a me io c'ho due alibi io c'ho prima Foglia e poi Fede io non posso mi ha ascoltato un secondo io c'ho due alibi io c'ho all'inizio Foglia e dopo Fede io non posso essere assassino o con Fede o con Fede ero in telecamere ci sono stati due morti due morti in quella cosa si ma è passata mezz'ora ma che cazzo di ci sono sempre stato con Fede era passata mezz'ora ci stavo io prima in telecamere io voto voto decidi se voto io voto voto io voto voto vi prego raga non trovatela Fede non trovate no però Fede perché sei tu voto sei tu e voto è berri vai a puzzarmi che cazzo fate perché trolla ma raga ma perché dovete trollarla così non capisco perché Fede ha fatto questa cosa infatti no ne va bene raga l'ha trollato vabbè ragazzi la commenta alle camere quindi mi ha trastato due se due sì ma c'era ma c'era vediamo se Fede adesso si sente vediamo se Fede adesso si sente c'era le luci spente sì sì ci sono ci sono ragazzi ce la siamo giocata bene io Foglia non dovete cagare il cazzo perché io ho preso sia l'alibi di Foglia che poi mi sono messo pure con Fede quindi avevo doppio ma non era un alibi sì che era un alibi io ero con Fede in quelle due chili ma non era un alibi non esiste quell'alibi ma se l'ho visto ma no 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 nessuno l'ha visto tu eri in che dicevi è stato Razzi ve l'ho visto ammazzare no capisco che è una coltevole però da quando eravamo in quattro in electricity e ne mancavano due ed era morto uno ma quello è colpa che ho sbagliato ma non è che hai sbagliato hai trastato a me cioè è tutto non è che hai sbagliato ma non hai sbagliato perché la tua call era inutile al cazzo cavolo eravamo in quattro insieme ma c'erano e luci spente e comunque era accanto a voi a destra in storage eravamo insieme eravamo tutti insieme no non eravate insieme perché io ho visto Fede entrare alla fine comunque non eravate insieme non dite cazzate